Salve a tutti, iniziamo oggi un nuovo progetto ovvero un alimentatore da laboratorio di tipo Mark II. In passato abbiamo già costruito un alimentatore da laboratorio però era una prima versione, appunto l'avevo designato con la sigla Mark I. Ora invece voglio realizzarne una seconda versione, quindi che utilizza una tecnologia superiore e che soprattutto richiede delle conoscenze teoriche e pratiche nettamente più avanzate. Lo schema logico resta praticamente immutato rispetto alla prima versione, quindi abbiamo la rete elettrica, la nostra sorgente in corrente alternata, che attraverso un trasformatore di isolamento dà energia a questo stadio di potenza. E questo stadio di potenza attraverso il feedback di tensione e di corrente dell'uscita andrà a regolare questi due valori che arriveranno poi al carico, quindi al nostro dispositivo o alla nostra scheda elettronica che stiamo testando. Ora in questo schema logico che cos'è che andremo a migliorare? Andremo a migliorare lo stadio di potenza, in quanto nella prima versione avevo utilizzato una tipologia a LDO, mentre in questa voglio utilizzare una tipologia switching, nello specifico la tipologia SEPIC. I vantaggi nell'utilizzo di questa tipologia sono che abbiamo un'alta efficienza di conversione energetica, in quanto mentre nell'LDO l'abbassamento di tensione veniva realizzato andando a dissipare la quantità di energia in eccesso, qui invece la conversione di tensione corrente avviene tramite elementi induttivi ed elementi capacitivi. Quindi in pratica la conversione non è di tipo dissipativa. Abbiamo che l'uscita è disaccoppiata con l'ingresso in quanto l'ingresso non vede mai il carico, questo perché nella tipologia SEPIC, come poi analizzeremo più nello specifico quando studieremo lo schematico, in pratica c'è un condensatore che disaccoppia l'uscita con l'ingresso. E quindi nel caso in cui si verificasse la rottura di qualche componente, come ad esempio gli attivi di commutazione, non c'è pericolo che il carico, quindi il nostro dispositivo che andiamo a connettere all'alimentatore possa subire dei danni. Ultimo vantaggio di questa tipologia è che è una tipologia di tipo back boost, quindi consente a parità di tensione di alimentazione sia di abbassare la tensione di uscita e sia di alzarla. E questo è davvero un ottimo vantaggio per un alimentatore da laboratorio. Mentre per quanto riguarda gli svantaggi abbiamo un unico svantaggio, ovvero il fatto che questa tipologia ha bisogno di un carico fittizio per funzionare correttamente. Infatti rispetto ad altre tipologie questa consente solo di caricare l'uscita, quindi di dare energia, ma non di toglierla. Quindi se noi raggiungiamo in uscita un determinato valore di tensione e poi andiamo a regolare il nostro alimentatore per ottenere una tensione più bassa, anche andando a retrazionare con dei feedback, questa tipologia non è in grado di togliere l'energia che ha dato in uscita. E quindi abbiamo bisogno di scaricare questa energia accumulata attraverso un carico fittizio, in modo che l'uscita non resti carica. Molto bene, quindi questa è una breve panoramica di questa tipologia e adesso andiamo a vedere quali saranno i prossimi step del progetto. La prima cosa che faremo sarà effettuare dei test sul trasformatore di isolamento che ho selezionato per questa applicazione. Infatti quello che vorrei è che questo alimentatore riesca a raggiungere almeno 100 watt di potenza di uscita. Però non so se il trasformatore che ho trovato può raggiungere effettivamente questa potenza. Quindi andremo a effettuare dei test per misurare la potenza erogata in uscita e poi successivamente ci regoleremo sulle caratteristiche principali che dovrà avere l'alimentatore. Quindi una volta nota questa informazione posso passare alla realizzazione dello schematico dell'alimentatore e successivamente anche alla progettazione pratica degli induttori e dei dissipatori per gli attivi. Una volta completati questi passaggi posso passare alla realizzazione del layout della PCB perché fino a quando non so gli ingombri di questi due componenti non posso realizzare un layout e quindi successivamente anche alla costruzione delle schede. Infine metterò tutto in un case e una volta completato andremo a fare dei test per verificare che in effetti l'alimentatore funzioni correttamente. Molto bene quindi questo è ciò che ci aspetta nei prossimi video. Ovviamente non sarà facile realizzare questo progetto essendo di difficoltà un po' più elevata ma sarà sicuramente entusiasmante. Molto bene per questo video quindi è tutto, alla prossima!